iniziato bellissimo oggi vi faccio vedere qualcosa di nuovo eh ritorniamo a noi ciao ragazzi oggi sto facendo qui laboratorio per questa formazione a trecentosessanta gradi vi ricordo il corso di Duiglio Torres il ventiquattro di questo mese ma poi eh nella descrizione eh vi metterò il luogo preciso e anche vero che sono in contatto con Duiglio e dovrò intervistarlo al più presto per farci raccontare quello che sta succedendo io in questo momento mi sto divertendo con la mia cinesina sperimentando queste nuove tecnologie eh che vi posso dire vi auguro buon proseguimento e ci vediamo alle prossime puntate e all'intervista che faremo con Duiglio colorista vincente uno due tre perché sentendo Duiglio eh ogni evento di colorista vincente diventa sempre qualcosa di più bello ci vediamo tra un pochino ciao grazie a tutti